No grazie Cos'è il più pericoloso di Mr. K... Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Dove starà mai andando questo camion? E' un genio dove sono i miei soldi E' un genio Ha droppato un tipo No Cos'è? Squidi questo secondo me Squidi? E' lui sicuro? Ah! Siamo noi No raga Qui c'è casa di Squidi, di Patrick E questa è di Spongebob Possiamo andare, possiamo bussare Non aveva fatto niente Secondo me qui Squidi Ci nasconde qualcosa però Secondo me è più importante andare qui Raga Spongebob non ci sta cagando Allora a sto punto andiamo da Patrick qua Ah! Abbiamo ricevuto un premio per aver Bussato a tutti Ah! Ci sono le torce da prendere Venite qui Ah! No! Ah ok Dobbiamo servire la traccia di sangue Vediamo Chris quindi Se ci... Ah! Ahia! Ah raga ho trovato sanguissimo Ah! Mannaggia Io ho paura che mi appare Spongebob Squirt Ah! Oh! Oh no mi sono spaventato Che c'è di son rumore No parla con Noob No Noob cos'hai da dirci guardalo Aiuto Aiutami Un'auto Un'auto No chi è? Patrizio! Patrick è l'unico che ci può salvare Patrick Oh mamma mia Patrick Come sei male Seguimi No grazie Cos'è più pericoloso di Mr. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Paralizzati più pericoloso Nooo Anche noi con la stessa animazione Nooo Patrick Ho sempre sognato di entrare a casa di Patrick Io cioè non puoi capire Ma che cosa è questo Patrick? Capisco che bevi sotto un sasso Però Respira più piano magari E' ossessionato dai soldi Questo è sicuro Ma sicuro Mr. Kreber Lui è ossessionato dai soldi di solito Giusto? Oh! Io ho visto Ho visto Patrick avere uno spazio Oh! Patrick ha gli spasmi Calmati Il vento è rapioso quando non riceve dei soldi Secondo me se tu guarda Secondo me è lui Ma sì Secondo me c'è tutta una trappola È tutta una trappola Sei assicuro di tutto con me Ma guarda In realtà preferirei essere una statua Un'andrea di preppi Sto con te Ok? Oh! Oh mio Dio Oh! Il terremoto Che cosa è stato? Vado fuori a controllare No! Ora muore Ora muore Ora muore Ora muore Oh! 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 Questo non era più visto Oh no Questo era il verso di Patrick Questo era di Audelio No! Patrick ha urlato Adesso andiamo a controllare Ora sbucano una cosa La tv Patrick No! Patrick! No! No! Chi è stato? No! No! Patrick! Dimenticati di me Salva te stesso Tranquillo Non l'avrei fatto lo stesso No! No! Io lo volevo salvare L'ho detto! L'ho detto che era lui Il traditore È un genio di merda! Oh! Si è nascosto? È un granchio È normale che si nasconde sotto la sabbia lui Ma non con questa animazione È troppo veloce per noi Aiuto! Aiuto! Dove dobbiamo scappare? Stai tenendo me! Ah! Eccolo! No! Eh! Guarda! C'è un posto dove ci possiamo nascondere te Eugenio Guarda zi Io a te l'abbè un bifito morto Dove stiamo? Dove stiamo? Eugenio Spongible Squirtin Qui sono le armi che abbiamo per il momento È un pacchetto di ciungomme Ma che cosa ci dobbiamo fare con le gomme? Cioè No! Io voglio il bastone! Cioè Ma guarda! Prendiamo tutte armi diverse! Ah! Stai scherzando vero? Allora mi per... No! Scusami tanto! Eh! Cosa dobbiamo prendere? Prendiamo la trappa! Ha messo letteralmente Ah ma... Ah! Ho piazzato la trappola! Siamo qui Lo metto al centro della strada Perfetto Seguimi! Mostro! Ah! 1-2! Vieni qui! Ah! No! Scusami! Ma raga è la boss fight Oh! Abbiamo vinto! Guardalo che era brutto! Ah! Se ne sta andando! Bellissimo! Dove sta andando qua? SpongeBob? Lo scopriremo sicuramente nel capitolo 2 No! Forse adesso! Ah! Il Krusty Krab! No! C'è Plakton! Plak... Quello come si chiama là? Non ti credo! Plakton! Ragazzi Noi stiamo creando una gang Te lo dico io Oh! Big mają! What! What! What? 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 Grazie a tutti.